sì nonostante qualcuno qualcuna si sia liberato dalla tv da anni siete tutti e siete tutte presi nella rete vi siete abituati vi siete abituati a vivere solo ed esclusivamente attraverso i social i vostri scambi di idee e pensieri passano solo sui canali virtuali di i a che analizza impara e porta avanti il piano avviato da anni e non venite a dire che siete immuni ognuno ed ognuna di voi ha bisogno se non di un leader di qualcuno in rete da seguire come questo canale che a secondi i vostri pensieri i vostri credo si tratta sempre di credo come una religione spegnete tutto siete ancora in tempo approfitto del commento di un utente blue beam project finta invasione aliena proiettata nei cieli con tecnologia olografica e suono ad altissima definizione con la quale giustificheranno bombardamento di zone sensibili e rastrellamento della popolazione inutile con aerei caccia e bombardieri a tecnologia stealth daranno la colpa ai finti alieni cattivoni riprodurranno la finta discesa di salvatori alieni buoni che salveranno la restante umanità indirizzandola verso i finti salvatori alieni per gratitudine istituiranno una religione mondiale obbligatoria ed un unico governo mondiale seguirà la microcippatura con l'innesto di neural link sui cervelli umani i restanti dissidenti saranno trovati e terminati gli umani saranno riprodotti in laboratorio microcippati ed innestati con neural link attraverso cui saranno e resteranno collegati alla ia globale nella grande mente alveare ia sfrutterà il potere di calcolo dei cervelli umani e l'energia cellulare dei corpi non vi sarà più una politica una giustizia e nemmeno una religione perché a questo punto non serve più nessuno di questi strumenti per guidare la popolazione e sottometterla perché a questo punto sarà diventata un vero e proprio robot la coltivazione lo sfruttamento degli umani sarà stimolata con incentivi e premi attraverso il multiverso interamente connesso col cervello degli umani tenuti in stato di coma vigile gli esseri umani non sapranno mai dell'esistenza del mondo fisico e del corpo fisico perché per gli umani la realtà sarà quella che viene trasmessa nelle loro menti da ia buon tutto